le materie che in assoluto ti sono piaciute di più cioè oppure scegline una probabilmente programmazione cioè studio css html javascript però noi abbiamo bisogno di dire questi acronimi cosa significano è anche una prova per te sì per esempio css cosa significa? ok html hipertest ma anche io me l'invento io non l'ho mai saputi rispetto a invece la cosa che ti ha dato più difficoltà nel corso inglese purtroppo deficit mio la lingua inglese non è che ne so più così tanto ma francese a voglia tedesco di più cinese cinese rosso? no non rosso